MTV Days 2011, nel cast Caparezza e Noemi. Inizia a prendere forma il cast dei MTV Days 2011, che si svolgeranno a Torino dal prossimo 30 giugno al 2 luglio. Per ora è stato confermato solo una parte del cast. I primi nomi ufficiali sono Caparezza, Noemi, Mauro, Ermanno, Giovanardi, Apre la Classe, Casino Royale, J-Ax, Club Dogo. Il Festival Musicale di MTV Italia quest'anno prevede concerti, conferenze e una serie di attività strettamente legate al mondo musicale. Per ora si sa che il 30 giugno e il 1 luglio dovrebbero essere due giornate ricche di conferenze per offrire diverse informazioni sul mondo musicale, per esempio come si organizza un concerto oppure in che modo si promuove una band. Quest'anno vi sono delle possibilità anche per le band emergenti, le quali attraverso Democorner hanno la possibilità di mostrare ai talent scout dell'industria musicale tutte le loro capacità o semplicemente possono chiedere dei consigli. Nel corso dei tre giorni del Festival di sicuro si esibiranno numerosissimi artisti. L'MTV Days 2011 si svolgerà in punti diversi della città. I palchi saranno infatti allestiti presso l'Università Dams di Torino, presso Piazza Valdo Fusi e Piazza Castello.